Un nuovo numero di Increscendo, il magazine della scuola secondaria Gonzaga di Bozzolo, è un modo originale per augurarsi buone vacanze al termine dell'anno più difficile perché è interamente toccato dalla pandemia, a differenza del precedente. A Bozzolo gli studenti mettono in campo, fuori dalle ore curricolari, passioni e riflessioni, approfondimenti e anima, cuore e penna o tastiera del computer, per completare un magazine che durante la stagione scolastica accompagna e unisce una redazione variegata, sia per età, chi scrive fecurenta la prima, la seconda o la terza media, sia per alternanza, dato che il direttore che coordina cambia ogni anno. Questa volta è toccato a Vittoria Baboni, assieme ai vice direttori Lucrezia Finardi e Cristel Maffezzoni, portare avanti un lavoro capace di toccare temi locali e internazionali sotto lo sguardo attento di Elide Bergamaschi, la professoressa che ha dato il via al progetto. Alla presentazione avvenuta in videoconferenza per rispetto delle normative Covid hanno preso parte anche i sindaci Giuseppe Torchio di Bozzolo, Alessio Renoldi di San Martino dall'Argi, e Massimiliano Galli di Rivarolo Mantovano, rappresentando dunque i tre comuni che fanno parte dell'istituto comprensivo, dai vandalismi registrati a Bozzolo, alle morti causate dai social, all'uso sbagliato di internet, al tema dei bambini schiavi con le ricerche condotte da Save the Children, un florilegio di approfondimenti dunque per tenere aperta, sveglia e attiva la mente e non a caso, alla fine della presentazione, tutti i ragazzi e le insegnanti in videoconferenza hanno indossato una t-shirt con il disegno di un albero perché in crescendo ha messo radici e non vuole smettere di crescere